Ma se nelle periferie italiane, compreso quello delle città più ricche, perché guardate anche la distribuzione del voto a Milano, dove pure ha vinto il sì, vince il no e voi vedete che la macchina diventa sempre più forte e il no tanto più ci si allontana dal centro, quasi come se ci fosse una mappa della sofferenza sociale, allora bisogna interrogarsi sul fatto, se quel no non fosse un no tanto adatto alla proposta di superare il bicameralismo, ma a un'idea di politica che non ha saputo fare i conti fino in fondo col tema della diseguaglianza ed è una cosa che ci dobbiamo chiedere soprattutto noi, che abbiamo svolto una funzione di governo, io non faccio una predica agli altri, ma per questo pensavo che fosse necessario prima di andare a una sfida come quella del Congresso di fare una seria riflessione su questo. Credo che sia un problema di tutta la sinistra europea, se non si è in grado di affrontare il tema della diseguaglianza rischia la democrazia in questa fase, non è più soltanto a rischio in qualche modo la coesione sociale, come si è detto fino a qua, rischia di esserci un salto di qualità, perché fino a qualche anno fa abbiamo immaginato che la globalizzazione fosse in qualche modo una manna per tutti, poi invece si è scoperto che ci sono pezzi della società che stanno meglio, pezzi del mondo che stanno meglio, ma parti della società che in qualche modo vedono non tanto, ci sono pezzi di società che si sono impoveriti, ma ci sono anche pezzi di società che hanno mantenuto lo stesso livello di reddito, ma hanno visto inclinate le sicurezze con le quali avevano fatto i conti fino a quel momento e questo inevitabilmente crea la paura e la paura crea un consenso per chi coltiva la paura e questo io vedo che sia il tema che noi dobbiamo provare ad affrontare, partendo appunto dalla base, come si redistribuisce il reddito, come si ricostruisce un nuovo welfare, come lo si fa su una scala che inevitabilmente è sovranazionale, perché ne possiamo parlare anche partendo dal punto di vista della giustizia, ormai la vera riforma della giustizia non è la separazione delle carriere a mio avviso o questo o quell'assetto della giurisdizione, la vera riforma della giustizia è costruire una giustizia che sia sovranazionale, perché gran parte delle questioni che ormai riguardano le nostre società, che mettono in pericolo la tenuta sociale della nostra società anche dal punto di vista del crimine, anche dal punto di vista del diritto civile, sono ormai questioni che sono sovranazionali e noi continuiamo a avere invece delle istituzioni della giustizia che sono soltanto di dimensione nazionale, pensiamo a, forse avremo modo di parlarne, ai crimini che si consumano sul web, pensiamo al terrorismo, non porti tutte le domande avanti perché se no non riusciamo più a fare nessuna intervista, ma così come questo, questo ragionamento vale anche per il resto, vale per il welfare, non ce la facciamo più a tenere un welfare che sia soltanto chiuso nella dimensione nazionale, non ce la facciamo più ad affrontare i temi delle politiche industriali soltanto nella dimensione nazionale, i nazionalisti che oggi hanno una forza impressionante, i nazionalisti propongono una ricetta che è un aggravamento del male, perché ti propongono di rinchiuderti nella dimensione nazionale, ti rinchiudi nella dimensione nazionale e per questo diventi ancora più impotente rispetto ai problemi che creano la paura e il malessere di cui si nutrono i nazionalisti, perché ora dobbiamo cominciare a chiamarli così perché questo termine populista è molto vago, noi sentiamo degli accenti che sono simili a quelli che abbiamo sentito nell'Europa degli anni 30. Entriamo nelle aule di giustizia, abbiamo parlato di democrazia, io parlo di fiducia, come si fa a avere fiducia in un sistema giudiziario dove manca certezza del diritto? Penso al caso di Turino dove una bambina è stata stuprata a 7 anni, il processo è durato 20 anni e il reato si è prescritto, la giudice si è scusata e lei ha mandato l'ispettore, il tema è però chi ne risponderà e chi disarcirà questa bambina di questa ragazza di questo danno? Intanto ne devo rispondere io che allo scoccare di questi 20 anni sono ministro protempore e devo chiedere scusa e poi credo mi dovrebbe rispondere complessivamente la politica interrogandosi sul funzionamento del processo penale, noi abbiamo presentato da tempo una riforma del processo perché il tema non è soltanto rivedere la prescrizione, come si racconta in questo caso i tempi di prescrizione sono stati molto lunghi perché avevamo un raddoppio dei termini di prescrizione dovuto a un intervento normativo su questo punto. Avevamo e abbiamo di fronte il tema di come funziona il processo penale, in quella legge secondo me ci sono le risposte, per quello sono contento che oggi sia stata calendarizzata, mi auguro che sia la volta buona perché il processo penale, su questo sono molto d'accordo con il Presidente dell'ANM, si dovrebbe occupare di cose serie e quindi dovrebbe concentrare l'ambito della propria azione, il diritto penale è ben limitato, non possiamo utilizzarlo per ragioni propagandisti. Il processo va rivisto guardando che cos'è mera dilazione e che cos'è effettivamente garanzia e poi io credo che ci sia un problema di organizzazione degli uffici e su questo stiamo facendo degli investimenti. Di queste tre cose la terza può andare avanti in via amministrativa, le prime due necessitano una modifica di carattere normativo che è quella che io mi auguro licenzi definitivamente il Senato. Poi c'è la vicenda specifica, in questa vicenda specifica qualcosa non ha funzionato per cui ho ritenuto, anzi molte cose non hanno sicuramente funzionato, per questo ho inviato gli ispettori per che si ricostruisca questa vicenda, è chiaro che non sarà responsabilità dei vertici degli uffici che sono arrivati da qualche mese, ma capire come si possa essere arrivati a questo punto credo che sia interesse di tutti e per questo attendo con grande attenzione il risultato dell'attività ispettiva che ho disposto, perché davvero si ha difficoltà a capire come si è fatto ad arrivare a questo punto, insomma anche con la più sprenata fantasia come si è potuto, come possono essere passati vent'anni prima che si dicesse una parola, ecco questa è una cosa su cui io credo sia molto interessante, sarà interessante attendere le risultanze dell'ispezione. Prima io raccoglierei tutte le provocazioni che lei ha fatto, però non posso spostarmi troppo, per cui proseguo sulla mia scaletta. Prima il direttore accennava questa stagione di grande riforme che è stata quella nel 70 nel diritto di famiglia, a cui poi è seguito un periodo di totale interesse della politica. Si dice sempre che è colpa della Chiesa che non vuole queste riforme, non è invece colpa proprio dello scollamento tra la politica e la società, cioè i politici non seguono più la società. Intanto devo dire che questa stagione è una stagione da questo punto di vista che va valutata positivamente, perché gli interventi che si sono succeduti nel corso di questi anni a cavallo delle due legislature ha dato dei frutti che non erano scontati, si è intervenuti sul diritto di famiglia, c'è stata la legge sulle unioni civili, c'è stato l'intervento sul divorzio breve, il cosiddetto divorzio facile, tutte cose che sono state al palo per tantissimo tempo. C'è stato un intervento sul tema, e spero che arrivi anche questa buon fine, sul tema dell'esecuzione della pena, tutte cose un po' fatte controcorrente, perché in verità la società non è una società che in questo momento guarda prevalentemente al tema della cifra di libertà, questa è una società nella quale tutte le volte che affronti questo tema hai una risposta rancorosa, quindi sono state fatte delle cose secondo me coraggiose, io lo dico avendo contribuito in parte, e devo dire in questo vedete quando si parla di demonizzazione, in questo penso che il Presidente del Consiglio Renzi abbia svolto un ruolo molto importante, perché ha voluto che alcune cose arrivassero in fondo, e ha detto una cosa che io non solo gli riconosco, ma che credo sia stata, abbia costituito un passaggio importante, ha detto a un certo punto io ho giurato sulla Costituzione e non ho giurato sul Vangelo, e questa è una cosa che non era affatto scontato in questo momento, penso che in verità il problema non sia la Chiesa, sono quelli che ritengono di essere gli interpreti della Chiesa, perché a mio avviso sono spesso un po' arbitrarie nel loro modo di interpretare il presunto punto di vista della Chiesa. A volte hanno anche delle vite diciamo non compatibili con la Chiesa e con quello che vogliono e che vogliono perdere gli altri. A me anche questa vede è una cosa della quale dovremmo prima o poi liberarci, guardiamo quello che uno dice e non chi lo dice, se ha un senso o no, e quello che mi interessa è che non ha senso, quello che è molto importante.